Si è chiuso con due sconfitti il torneo di Sansepolcro che vedeva l'estra Pistoia impegnata in un quadrangolare, con due formazioni del campionato di Serie A, Napoli e Pesaro, e la CSO Voluntari che milita nella massima categoria del campionato rumeno. Il torneo vinto dalla squadra campana in finale contro la Voluntari è stato un test importante per i biancorossi che hanno dovuto fare a meno di due pedine fondamentali come Jordan Varnado ed il play Charlie Moore, entrambi alle prese con piccoli fastidi fisici. Eccezione fatta per Capitano della Rosa e Carl Wiedel, tutti i componenti della squadra sono alla prima esperienza in Serie A e questo non è certo un dato trascurabile. La due giorni di Sansepolcro ha messo in evidenza la differenza di fisicità ed esperienza rispetto alle altre squadre, come ad esempio Napoli, che ha un gruppo totalmente rinnovato, ma con fisico e esperienza nazionale ed internazionale. Indipendentemente dall'aspetto tecnico e tattico, dobbiamo essere più bravi nella concentrazione nello stare attento sui piccoli particolari e su quello si può lavorare al netto delle scarse rotazioni. Abbiamo avuto tante palle perse, un po' poco forzate dagli avversari, che è chiaro che poi a questo livello fanno la differenza, non nel vincere la partita oggi, ma quando sarà il momento di provare a vincere le partite, quei dettagli fanno la differenza. Un pochino dobbiamo imparare a pesare di più il pallone, una palla persa è una palla persa che può costare la partita, quindi dobbiamo stare attenti a queste cose. Però ripeto, oggi ero molto preoccupato perché in sette si faceva fatica, rischiavamo infortuni, sono stati bravi i due ragazzi a darci una mano nelle rotazioni, quindi bene così, è stato un ottimo allenamento. Ripeto, speriamo da martedì di poter avere un po' più di persone all'allenamento e quindi di iniziare a mettere insieme qualcosa. Per quanto riguarda i singoli, Hawkins, anche se è la prima uscita fuori dagli Stati Uniti, comunque ha ben impressionato. Sicuramente sono stati propositivi e hanno provato a fare il loro, Ryan, Payton, Derek con qualche up and down, ma anche lui, i nostri giocatori italiani. È un percorso di crescita, anche se fossimo stati al completo probabilmente avremmo avuto delle difficoltà, ovviamente, per cui dobbiamo continuare a lavorare e aspettare giorni migliori proprio per quello che è la quotidianità, però manca poco meno di un mese alla prima partita di campionato, quindi sono sicuro che arriveremo pronti per quel momento lì.